In questo video andremo a vedere le prestazioni della scheda video che a mio parere è la migliore di questa generazione la RTX 4070 Super in customizzazione della Mali, la più economica Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo Oggi siamo qui a parlare di questa RTX 4070 Super scheda video secondo me interessantissima e che probabilmente è da considerarsi come la migliore o comunque tra le migliori di questa generazione di RTX 4000 e anche di RX 7000 perché davvero Nvidia questa volta ci ha azzeccato perfettamente diciamo era anche ora perché dopo due anni quasi dall'uscita delle 4000 finalmente a gennaio di quest'anno è uscito questo modello insomma tutto il refresh delle Super avrete sentito e questa secondo me è tra le più interessanti e ovviamente poi andremo a vedere meglio durante i benchmark in produttività e nei giochi e poi anche nelle conclusioni se effettivamente questa scheda mantiene tutte le promesse ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non lo avete già fatto attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro per quanto riguarda hardware e videogiochi usati troverete anche queste schede video quando andranno in offerta quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e iscrivetevi se non lo siete perché così fate un favore a voi e al vostro portafoglio e per ultimo ma non per importanza vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram di Nintec e sul mio canale di TikTok e ora possiamo riprendere a parlare di questa RTX 4070 Super uscita in inizio di quest'anno 2024 la RTX 4070 Super si presenta come un refresh un potenziamento della precedente versione cioè la RTX 4070 base mantenendo il prezzo MSRP della 4070 liscia ma aumentando nelle prestazioni non di poco l'uscita poi di queste 4000 Super è stata dettata soprattutto dal fatto che AMD negli ultimi mesi ha risposto abbastanza duramente nella fascia medio alta con modelli come la RX 7800 XT di cui trovate un video realizzato qualche mese fa qua sopra nelle schede oppure anche con modelli tipo la RX 7900 GRE molto interessanti proprio su questa fascia in ogni caso il chip utilizzato alla base di questa 4070 Super è la D104 con però 7168 CUDA cores bloccati rispetto ai 7600 erotti della 4070 Ti con un boost clock dichiarato sulla carta di 2400 MHz circa che però risulta essere effettivamente più alto anche con customizzazioni non di fascia molto alta come quella che andremo a vedere oggi il tutto è accompagnato da 12 GB di VRAM GDR6X con un boost di 192 bit il che comporta un bandwidth di 504,2 GB al secondo quindi niente male per una scheda video del GR il TDP di questa 4070 Super è più elevato rispetto al modello di 4070 standard perché abbiamo un TDP e consumo relativo di 220 Watt contro i 180-190 circa della 4070 quindi abbiamo un aumento di consumi ma che effettivamente si risolve poi in un aumento di prestazioni non indifferente e parlandovi meglio di questa customizzazione della Mally sono rimasto veramente stupito perché attualmente è una delle più economiche se non la più economica la possiamo pagare circa 605€ da stortersi come BPM Power o S-Shop e ci troviamo con una custom b-ventola ma con due ventole belle grosse anche bella spessa perché parliamo di una triple slot e questo fa sì che le temperature come vi ho già detto che andremo a vedere fra un attimo sono molto più basse rispetto a modelli sulla stessa fascia di prezzo come la Gameward Ghost o la Palette Dual tra l'altro sulla Gameward Ghost ha realizzato un video il collega e amico SD Vardor di cui vi lascio linkato qua sopra nelle schede il video se siete curiosi di vedere come performa quel modello in questo caso le temperature a pieno carico a stock quindi senza aver modificato voltaggio né niente quindi come prendete questa scheda la mettete nel vostro computer sono di 63 gradi circa di massimo dopo 10 minuti di stress test con Even Benchmark e un hotspot misurato con HWinfo di 72 gradi quindi davvero sono temperature molto molto buone la velocità delle ventole è di 1200 RPM che vi dico se avete il case con l'apparatia aperta avete il volume del monitor delle cuffie al muto la sentite un pochino però in casi effettivi reali questa scheda poi quando è in idle ha il fan stop quindi non la sentite e col carico attivato si un pochino si senta 1200 RPM ma nulla di rumoroso quindi andate veramente tranquillissimi se poi introduciamo l'undervolt davvero questa scheda e ne parleremo meglio anche nelle conclusioni diventa un mostro ma un mostro di efficienza perché riusciamo ad abbassare il consumo da 220 watt circa a 150 forse anche meno a volte dipende dai test il tutto comporta un abbassamento delle temperature dai 63 gradi che vi ho detto a 49-50 gradi sul core con un hotspot di soli 55-56 gradi il che è davvero qualcosa di eccezionale io ogni volta mi emoziono mi stupisco quando vedo questi risultati però davvero se ci troviamo una scheda così efficiente che mantiene poi le prestazioni perché in questo caso l'undervolt che ho applicato va a ridurre di un 5% al massimo le prestazioni ritroviamo comunque un'efficienza energetica paurosa ma prima di spoilerarvi troppo le prestazioni di questa scheda direi di passare alla piattaforma di test in questo caso ho utilizzato il mio PC quindi con Ryzen 7 7700 overglocato a 5.3 GHz su tutti i core 32 GB di RAM DDR5 6400 MHz CL32 della G-Skill le Trident Z come scheda madre invece c'è la X670 Extreme Steel Legend della ASRock e come dissipatore per la CPU l'Endorfi Navis F360 ARGB come alimentatore sempre l'Endorfi Supremo FM5 da 1000 Watt ora direi di passare invece ai test e poi alle considerazioni di questo video e partendo col primo benchmark di produttività abbiamo Cinebench 2024 qui abbiamo testato anche la 3090 e 7800 XT in questo caso abbiamo che la 4070 Super è in netto vantaggio anche rispetto alla 3090 e praticamente va al doppio rispetto alla 7800 XT questo è perché insomma i nuovi core dell'architettura e del Lovelace sono effettivamente molto prestanti nei rendering stessa cosa la vediamo anche su Blender Open Data 4.0 dove la 4070 Super va bene al di sopra come punteggio rispetto anche alla 3090 in questo caso testata in undervolt su Blender Classroom Demo stessa cosa in questo caso vediamo il tempo in secondi 11,32 secondi per la 70 Super e 13,42 per la 3090 la 7800 XT 33,9 ma perché non è insomma un'applicazione in cui le radio vanno molto bene Geekbench 6, lato GPU 4070 Super 188.000 ai rotti punti e 3090 184.000 e 308 punti 7800 XT 143.000 quindi anche qua vediamo in vantaggio le GeForce su Octane Bench con RTX abilitato questo è un benchmark solo per schede video Nvidia abbiamo che la 4070 Super va abbastanza di più rispetto alla 3090 pur avendo ecco meno core dedicati insomma ma ecco di nuova generazione su DaVinci Resolve vediamo invece l'unico caso in cui la 3090 è in vantaggio rispetto alla 4070 Super con un GPU score di 161 punti contro i 137 della scheda argomento di questo video su Spec Vperf vediamo che le Radeon nei benchmark in cui nei test e nelle applicazioni in cui le GeForce vanno male ecco queste Radeon vanno benissimo quindi qui dovete vedere un po' l'applicazione del vostro ambito e fare la vostra scelta su Stable Diffusion abbiamo un numero di trazione al secondo decisamente superiore per la 4070 Super quindi anche per la generazione di immagine tramite intelligenza artificiale questa ultima scheda è veramente super consigliata e passando ai giochi abbiamo control in 1440p settaggi di Digital Foundry e abbiamo 180 fps di average con un percentolo di 134 quindi direi super giocabile passando al 4k nativo sempre con gli stessi settaggi 86 fps e un percentolo di 70,3 per quanto riguarda il ray tracing abilitando DLSS, Quality, stessi settaggi ma con ray tracing a medio e confrontandolo con la 3090 abbiamo un netto vantaggio per la 4070 Super di circa una decina di fps Alan Wake 2 1440p nativo con settaggi di Digital Foundry 69,7 fps e un percentolo di 58 in 4k ma con il DLSS bilanciato stessi settaggi 74 fps e 63 di un percentolo di 63 di un percentolo di passando al path tracing in questo caso però 1440p con DLSS bilanciato abbiamo quella 4070 Super in vantaggio rispetto alla 3090 di una decina di fps quindi 57 fps di average contro 47 della top di gamma di scorsa generazione passando al Death Stranding in 1440p e settaggi maxati abbiamo un average di 185,2 fps e un percentolo di 142,8 fps quindi davvero esperienza fluidissima mentre in 4k abbiamo un average di 112 fps che è un pochino più vasto rispetto a quello della 3090 che arriva a 123 questo probabilmente è dovuto al fatto che il bandwidth della VRAM effettivamente è più esiguo rispetto alla 3090 su Fortnite di capitolo 5 stagione 2 da RTX 12 1440p e settaggi medi abbiamo 303 fps di media con un percentolo di 184 quindi super giocabile e in 4k settaggi medi senza upscaling abbiamo un average di 160 fps con un percentolo di 112 quindi anche qua insomma fps super godibili e con insomma una visuale veramente ottima God of War 1440p e settaggi ultra quindi maxati 114,4 di average e un percentolo di 88 e passando al 4k abbiamo 77,3 fps e un percentolo di 62 ricordo in questo caso non abbiamo utilizzato tecnologia di upscaling e i settaggi sono maxati quindi comunque i risultati sono notevoli su The Finals la stagione 2 in 1440p settaggi alti con retracing alto 136 fps e un percentolo di 101 quindi anche qui super godibile anche questo ultimo gioco competitivo e abilitando il DLSS performance ma in 4k che sono le clip che state guardando adesso 150 fps di media e un percentolo di 112,2 quindi anche qui insomma super godibile super fluido Cyberpunk 2077 1440p e settaggi di hardware unboxed in versione quality abbiamo un average di 117 fps e un percentolo di 79 in 4k abbiamo 63 fps per la 70 super contro i 66 della 3090 sempre questa cosa dovuta probabilmente al bandwidth della VRAM che è maggiore e in padracing abbiamo anche il risultato della 4070 super undervoltata che è praticamente identico ma consuma ecco 50 watt in meno circa ed è in ogni caso maggiore di circa 10 fps rispetto alla 3090 quindi davvero tantissima roba su Battlefield 5 1440p ultra abbiamo il cap del frame rate di 200 fps quindi anche qui benissimo e in 4k a ultra scendiamo a 138,8 in ogni caso sono ottimi risultati per questa scheda e ora direi di passare alle considerazioni finali di questo video e eccoci qui ragazzi dopo aver visto i test che dire io sono rimasto veramente impressionato dalle prestazioni che riesce a ottenere questa scheda soprattutto poi se undervoltata quindi con un consumo di 150 watt ma anche a stock a 220 watt le prestazioni che offre sono veramente qualcosa di incredibile perché abbiamo visto anche rispetto a una 3090 gli ambiti in cui la 3090 va meglio sono veramente pochissimi certo la 3090 ricorda avere 24 giga di VRAM quindi in base al vostro utilizzo e al carico di lavoro e ai modelli che state utilizzando potrebbero essere necessari più gigabyte di VRAM quindi in quel caso ovviamente dovete considerare un modello con più memoria ma se il vostro carico di lavoro rimane all'interno di questi 12 giga davvero questa scheda vi offre un livello di prestazioni che è decisamente superiore alla 3090 per quanto riguarda gli ambiti di produttività quindi davvero niente male e il tutto poi consumando circa la metà per quanto riguarda il gaming invece ci sono alcuni aumenti in cui la 3090 va effettivamente un pelino meglio ma parliamo veramente di pochi punti percentuali e ambiti particolari cioè quelli in cui si va a utilizzare un'alta risoluzione come il 4K e si va a utilizzare la rasterizzazione classica quindi senza l'utilizzo di ray tracing in quel caso la 3090 ripeto è in vantaggio ma veramente di poco per il fatto credo dovuto alla VRAM che utilizza un memory bus decisamente più elevato di questa 4070 Super però se andiamo a considerare tutti gli altri ambiti quindi anche 1440p rasterizzazione oppure 1440 o 4K utilizzando ray tracing o pad tracing questa 4070 Super è in vantaggio notevole perché vediamo differenze anche di una decina di fps in casi in cui magari stiamo facendo 40 fps con la 3090 e 50 e passa con questa 4070 Super che poi effettivamente in percentuale sono vantaggi notevoli il tutto poi senza considerare le feature introdotte con l'architettura delle 4000 in particolar modo il DLSS 3 Frame Generation che non sono andato a utilizzare per questi test ma sappiate che ecco questa scheda può andarlo ad attivare e avendo già una base di partenza molto buona nei titoli ripeto con pad tracing attivo vi permette anche di utilizzare questa scheda senza nessun problema ad avere esperienze anche molto fluide in questi titoli quindi per tirare un po' le conclusioni su questa scheda davvero a 605 euro è difficile arrivare o superare questa 4070 tutto considerato perché sì c'è la 7800 XT che si avvicina molto spesso alle prestazioni di questa c'è la 7900 GR sempre di AMD che in alcuni casi potrebbe essere un pochino superiore però poi ci sono tanti ambiti soprattutto per quanto riguarda la produttività dove Nvidia la fa da padrona poi certo ci sono anche ambiti soprattutto della suite di Specview Perf dove abbiamo visto le Radeon comunque comportarsi molto bene certo ci sono anche ambiti in cui le Radeon proprio veramente si fa fatica a farle andare come stable diffusion oppure ambiti in cui performano veramente molto molto al di sotto della loro classe per esempio Blender nei giochi potrebbero essere ancora rilevanti se non andate a fare un utilizzo particolarmente spinto di nuove tecnologie come pad tracing o ray tracing e se giocate particolarmente giochi competitivi in quel caso ecco le Radeon secondo me sono ancora una valida alternativa però se il vostro utilizzo è un po' generale quindi testate un po' una cosa andate poi a fare un'altra così ecco una scheda come questa secondo me è la scelta migliore perché ci troviamo veramente un prodotto super versatile e con un'efficienza energetica mostruosa sia a stock ma soprattutto in andrevolte io effettivamente vi consiglio di andrevoltarla in questo caso i settaggi che ho utilizzato in questa customizzazione che ripeto essere per l'eresima volta la più economica sono perfettamente stabili sia in carichi sintetici ma anche in giochi con pad tracing e in pad tracing si vede la stabilità di una scheda in andrevolt quindi ecco davvero ci troviamo di fronte a una scheda da cui si possono muovere veramente pochissime critiche e anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video io come sempre spero che vi sia piaciuto se così mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto e con un commento su cosa ne pensate voi della 4070 Super se avete intenzione di prenderne una o se invece magari l'avete proprio comprata detto questo io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sulla RTX 3090 testata in ambiti simili a questi quindi sia produttività che gaming e il secondo invece è quello realizzato sulla RX 7800 XT scheda comunque interessante che possiamo trovare a un centinaio di euro in meno rispetto a questa e che vi ho già detto avere insomma diverse particolarità interessanti e arrivati a questo punto è veramente tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi